è gigante, è veramente gigante amici siamo all'Expo! Expo! E lì? C'è isterismo! Dove partiamo il nostro viaggio? Railandia! G14! Laos! Non c'è nessuno! No? Non è Laos! Alla fine siamo finiti in Laos, quindi si parte con la Laubier La vera che noi pagavamo i centesimi indietro costa 4 euro Laos! Non è Laos! 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 Siamo in Thailandia! Adesso cerchiamo di entrare Viva! 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 V Alla lingua Alla lingua Al padiglione della lingua ci aspettavamo il gelato Non so perché E noi ci consegniamo con questo Un euro Uno 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 euro Piccola pausa meritatissima Mamma mia Dopo tutto il giorno a camminare Si è giusto Si è giusto Il primo impatto Me lo aspettavo molto diverso Diverso ma non è male Alla fine non è vero che costa tanto Però È un rontodone Lui si è Però Si aspettava stand con gente che cucinava Gli assaggini, le cose Anch'io Però Comunque No io voglio vedere la Scozia C'è la Scozia? Non so ci sarà la Scozia Non so se c'è la Scozia nemmi Scozia È Scozia Non so se c'è la Scozia Ragazzi dopo la pausa Ci sentiamo molto più energici Per un'altra ventina di minuti E continuiamo il giretto qui all'Expo E andiamo in Serbia Spacco bottiglia Mato famiglia Miau 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 La cena sarà servita verso le undici e mezza probabilmente ragù di carne e canina questo dovrebbe essere il supermercato del futuro come ti sembra un poco supermercato ancora meno futuro ragazzi ma chi l'ha detto che all'expo bisogna spendere un casino per far ammanciare tutto questo ha soli 4,90€ tutto questo ha la cop perchè la cop sei tu cazzo non dobbiamo fare pubblicità siamo spanchi e andiamo a letto il video è finito mettete mi piace iscrivetevi e condividete mi raccomando tu hai capito buonanotte ciao ciao ragazzi ciao amore ma amore si dimmi e che so sei un angolino